Ciao, io sono Caterina Petroni e sono un'ex studentessa del Master in Brand Communication. Un saluto a tutti i nuovi e i vecchi, anche studenti di PoliDesign. Io attualmente mi trovo a Milano, dove vivo e lavoro. Lavoro come strategic designer in un'agenzia di consulenza in strategia digitale, che si chiama Twig. Per me il Master in Brand Communication è stata un'ottima opportunità professionale, perché mi ha permesso di entrare in contatto con delle figure professionali e più in generale con delle realtà che nemmeno sapevo che esistessero. E riuscire a entrarci in contatto così da vicino per me è stato molto utile. Io mi auguro che tutti i nuovi studenti che stanno per intraprendere questo percorso riescano a cogliere l'opportunità data dal fatto che il Master fornisce tanti punti di vista diversi, tante metodologie diverse e riuscire a cogliere questa opportunità secondo me fa fare un gigante passo avanti quando poi si va a cercare lavoro. Quindi che dire, in bocca al lupo!